Bentornati su MyFootballJersey, torniamo in America a prevedere la maglia dei Los Angeles Galaxy per la stagione 2023, la nuova, la seconda maglia in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è molto bella, particolare con questa rifinitura in tre colori, queste bande gialle. Nella mia classifica prende 4 stelle, molto bello il tessuto e ottima la vestibilità. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso per una maglia fatta veramente bene, precisa in tutti i dettagli a quella dei calciatori e che arriva con un tempo molto buono di spedizione. Come al solito vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi aspettano. Ora prima di lasciarci, se il video vi è piaciuto, se il canale ha dei contenuti che vi interessano, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un grande like. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.